Buongiorno a tutti, mi chiamo Miriam Sheaier, sono una psicologa dello sport e una psicoterapeuta. Trovate i miei riferimenti all'interno del sito mindtrainer.it e pds psicologi dello sport. Oggi voglio affrontare con voi il tema dell'ansia prestativa. Che cos'è? Ce l'hanno tutti intanto, gli atleti agonisti, i ragazzi durante gli esami e le persone che devono parlare in pubblico. Ad esempio, questa che io ho con voi oggi è un'ansia prestativa, cioè è un eccesso di attivazione in rapporto a una situazione che comporta per me una certa sfida. Qual è la sfida? Che temo il vostro giudizio, temo di farmi una brutta figura o temo semplicemente di impapinarmi. Allora, per arrivare a raggiungere l'obiettivo che è quello di farvi in questa situazione capire quei concetti che vi sto illustrando, io devo avere un atteggiamento focalizzato, quindi i miei pensieri devono essere lucidi, la mia emozione deve essere sotto controllo, il mio respiro non deve essere affannosa, ma deve essere rilassato. Tutto questo, se viene effettuato attraverso un programma di allenamento, mi permette di raggiungere uno stato di flow, ovvero di flusso, dove tutto viene da sé e io mi sento perfettamente integrata, realizzata e aderente al compito che sto eseguendo. Per approfondimenti troverete il mio articolo su Scienze Motorie e nella mia pagina Facebook Miriam Jaillet Mind Trainer. Per informazioni scrivetemi info-mindtrainer.it. Grazie e buona giornata.